Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV a questo appuntamento con la rassegna stampa, occhio ai giornali Cominciamo dal santo di oggi, è un santo del 1800 e anche difficile un po' da pronunciare San Giovanni, Nepomuceno, Neumann, è stato vescovo, il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.46 Il tempo per oggi, subito, perché ci sono già stati i primi temporali nevosi Noi in realtà della provincia di Pesaro vedremo forse poco, il resto sarà tutto nel centro-sud delle Marche almeno stando alle previsioni, ma andiamo con ordine, cominciamo con la giornata di oggi Allora, oggi avremo precipitazioni deboli sparse, localmente moderate sui settori montane A fine giornata le accumulate saranno più abbondanti sui settori centro-meridionali della Regione Il limite delle nevicate è attorno ai 400-500 metri adesso al mattino poi in progressivo calo, quindi scenderanno, arriveranno in pianura nel corso del pomeriggio perché le temperature massime saranno in diminuzione I venti saranno invece nord-orientali di vento fresco lungo la costa e di vento moderato sui settori interni Attenzione perché le raffiche di vento, quindi ci sarà anche il vento più tardi potranno raggiungere burrasca forte e qui non è poco, burrasca forte Il mare sarà molto mosso al mattino con molto ondoso in ulteriore aumento nel corso del pomeriggio Durante la notte, questa notte, tra giovedì e venerdì le precipitazioni potranno essere a carattere nevoso anche lungo la costa Quindi questa è un po' la situazione Quindi durante la notte, questa notte, tra giovedì e venerdì, tra stanotte e domani che è l'epifania vediamola allora subito l'epifania, ci potrà essere questa possibilità di nevicate Il cielo domani sarà nuvoloso o molto nuvoloso con ancora delle nevicate, vedete, deboli sui settori centro-meridionali Le temperature sono in ulteriore calo, i venti sono nord-orientali Le raffiche ancora potranno raggiungere burrasca forte, quindi il mare sarà agitato Per la giornata di sabato non ci sono precipitazioni, non ci sono fenomeni però le minime sono ancora in calo, quindi vedete il simbolo del ghiaccio Quindi fate molta attenzione nella giornata di sabato perché il ghiaccio sarà protagonista Dunque le strade, attenzione, anche stamattina fate attenzione perché comunque c'è la neve dove è caduta con l'acqua, la poltiglia e dunque non si è abituati ancora perché sono i primi fenomeni dell'anno e dunque bisogna fare attenzione Soprattutto controllate le gomme perché su questo purtroppo a me coi soldi che sono sempre meno si risparmia anche sulle gomme, poi però si fanno i danni Andiamo a vedere allora i giornali, cominciamo dal resto del carlino La prima pagina, eccola qua, è per i migranti Quelli che arrivano poi restano L'espulsione di un migrante è un evento infatti rarissimo Solo 25 rimpatri effettuati su 95 decisi nella nostra provincia Poi un infarto, un infarto per il sindaco di Cagli salvato con il defibrillatore Lo vedremo tra poco E un fanese, un fanese che guida il contingente italiano dell'Unifil in Libano Mentre in tribunale a Pesaro c'è stata la bonifica O meglio inizierà la bonifica, ci vorranno 4 settimane Però il neoprocuratore, che lo ricordiamo è una donna Prende il posto di Palumbo, è già arrivato a Pesaro Ha fatto un sopraluogo per vedere un attimo com'era la situazione Allora ripartiamo da Fano, la pagina di Fano del resto del Carlino Con questa intervista, sono due pagine Questa intervista a questo fanese Ugo Cillo Che è comandante del contingente italiano Unifil I libanesi, dice lui, provano affetto per l'Italia E grazie a noi sperano nel futuro Quando partecipai alla missione nel 2006 a nord di Tiro Il paese era ancora fortemente provato dalla guerra appena conclusa In via Cavour tutti stiano tranquilli Vogliamo solo riqualificare la zona L'assessore Cristian Fanesi replica così ai commercianti Sui lavori in vista Commercianti che avevano il timore di una ZTL Di una zona traffico limitato E quindi di un possibile problema di introiti Quindi di un calo degli affari Poi addio alla maestra Rosa Nicolini in Scoppelliti Conosciutissima da generazioni di scolari fanesi Per essere stata per tanti anni maestra di scuola elementare al Poderino Ha avuto anche un passato da consigliere comunale In alcune legislature degli anni 90 del secolo scorso In rappresentanza della democrazia cristiana I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 Nella chiesa di San Cristoforo E l'altra pagina del resto del calino Legge sulla unificazione di Marotta Giusto che il Comune la difenda Gabriele Vitali portavoce del Comitato a Difesa del Paese Replica dopo le critiche rivolte al Sindaco Barbieri Per avere affiancato la Regione Mentre a San Costanzo ci sono ancora due bombe da portare via Inizierà la bonifica giovedì 12 gennaio Ci saranno queste operazioni di disinnesco Del primo dei due ordigni bellici rinvenuti a novembre Lungo la strada provinciale 16 a Cerasa di San Costanzo E poi ancora il procuratore Dicevamo che ha fatto il nuovo procuratore Ha fatto visita, ha fatto un sopralluogo Nel Tribunale di Pesaro Che però ancora resta off limits Tedeschini è venuta a sincerarsi della situazione Sotto per la bonifica, ci vorranno quattro settimane La ditta al lavoro, il preventivo è di 224 mila euro di lavori La situazione meteo, metro d'acqua piovana È il regalo che ci lascia il 2016 I dati dell'osservatorio Valerio Un'annata tra le più calde in assoluto Tra gli anni più caldi di questo inizio di secolo Si chiude con un dicembre davvero di grandissima siccità Dove praticamente è piovuto quasi nulla Andiamo adesso sul Corriere Adriatico Questa è la prima pagina In centro la rivoluzione dei cantieri Ma troppe saracinesche restano ancora abbassate Su oltre 1700 locali Sono più di 300 i negozi sfitti Il Comune studia delle soluzioni Mentre a centro pagina al via da oggi Gli sconti, quindi i saldi I consigli dei commercianti più fashion Tutte le sfumature dei super saldi Dall'abbigliamento all'elettronica Ecco cosa non si può fare a meno di comprare E allora andiamo nelle pagine interne Subito la pagina di Fano Eletta nella lista dei 5 stelle Rinuncia ed è assunta da seri Elisa Belancioni di Benecomune doveva sostituire Ansuini Lavorerà alla città dei bambini Sotto evasione IMU Il Comune recupera un milione e mezzo di euro Ritornano Qualcuno se le ricorderà sicuramente Certo i consigli, le circoscrizioni A Fano sono state eliminate ormai A distanza di 10 anni Tornano i consigli di quartiere E nascono con un avviso Si cercano adesioni per le nomine Le elezioni ripristinate dal 2019 Dunque torna il decentramento a Fano A distanza di 10 anni Le circoscrizioni furono abolite Per una disposizione del governo Prodi nel 2006 La Giunta ha preso atto Della proposta di istituzione Dei consigli di quartiere E del relativo regolamento comunale E ci saranno divisi in sei Sei divisioni territoriali Con nove rappresentanti E tre invitati delle associazioni Nessun compenso Quindi nessuno prenderà soldi E qui vedete invece una foto Più recente di Rosa Nicolini Scopelliti Aveva 86 anni Addio alla maestra di tanti bambini Maestra innamorata della sua città Si impegnò, come dicevamo Anche nella politica Nella democrazia cristiana La cronaca Picchiato, sempre da Fano Picchiato e rapinato in strada All'agguato Prende parte anche la ex compagna Aggressione a un pensionato In via della Repubblica Per 100 euro Ed il telefonino La quarantena cubana Complice del nuovo giovane finanzato I due arrestati E subito scarcerati Poi c'è la cronaca sotto Con alcune notizie Che riguardano i vigili del fuoco Che sono intervenuti in un garage Per un mozzicone di sigarette E poi allarmi anche a San Costanzo e Fenile Fenile dove una signora A causa della serratura rotta Della propria abitazione È rimasta chiusa fuori case E in questi casi poi si chiama Sempre appunto i vigili del fuoco Dalla valle del Cesano Il tar da ragione al primario Chirurgia Ora può ripartire Ma l'amministrazione è preoccupata Contro la regione C'è voluto un giudice Appiccano il fuoco al presepe Un residente spegne le fiamme Pericolo nel castello di Mondolfo Donna rientrando a casa Vede il fumo E accorre con l'acqua Questo successo a Mondolfo A Senigalli invece Lo sposo ci ripensa sul più bello E dice addio alle nozze Sull'isola da sogno Però Quindi niente matrimonio nel Pacifico Però gli invitati avevano già pagato il biglietto Avevano organizzato tutto E alla fine cosa hanno detto? Partiamo lo stesso Ma chi se ne frega Alla fine è andata così La storia che troverete Sulla pagina di Senigallia Del Corriere Adriatico I matrimoni in aumento in città Grazie alle unioni civili In caso In calo invece E qui verrebbe da dire purtroppo Il sì in chiesa E poi ancora Sfoghi ed esposti Firme al Ministero Cacciate i parcheggiatori abusivi Sempre da Senigallia Monta la rabbia Dopo la risse scoppiata in piazza Simoncelli Per un cliente conteso Sul piano di vaccinazione Relativo alla nostra regione Sapete c'è questa Questa corsa al vaccino Un po' ormai in tutta Italia Psicosi Tutti ne stiamo parlando Meningite Sul fronte della regione Marche Un piano regionale Estesa l'esenzione per i vaccini Sono gratis infatti Per i nati dal 1997 in su E per i pazienti Con particolari patologie Lunedì arrivano le scorte Perché sapete che Appunto questa corsa al vaccino Ha svuotato praticamente Gli armadi degli ambulatori Medici e pediatri in prima linea Per fornire comunque Tutte le informazioni Dicevamo le scorte dei vaccini I dipartimenti di prevenzione Sono già attivi Per garantire le priorità previste Dal piano regionale dei vaccini Hanno organizzato una risposta programmata Anche per le vaccinazioni in copagamento Per ogni informazione Comunque ci si può rivolgere Certamente alle sedi vaccinali Ma anche ai medici di medicina generale E ai pediatri di libera scelta Quindi questa è un po' la situazione Ricordiamo che quella che è in atto In questo momento È una psicosi ingiustificata Non siamo in emergenza Parla e lo dice anche Tavio Che è direttore di malattie infettive A Torrette E allora come al solito La colpa di chi è? Dei mass media Che come se i dati sono gli stessi Degli anni scorsi Che cosa è cambiato? È cambiato che nelle scalette Dei telegiornali È aumentata la presenza Delle notizie che riguardano La meningite Perché se i malati sono gli stessi Qualcosa non torna E quindi da qualche parte È chiaro che quando l'informazione Come sta avvenendo in queste ultime settimane Tutte le sere nei telegiornali Parla di morti O comunque di ricoveri Negli ospedali Per la meningite Si crea l'effetto che si è creato E quindi c'è allarme Poi uno va a vedere i dati Tutto uguale agli anni prima Quindi qualcosa non torna Però è importante vaccinarsi Questo lo ribadiamo ancora una volta Ma seguendo Quelli che sono i piani Che studiano le regioni C'è rimasta la pagina Di Colli al Metauro Eccola qua Vediamola qua Di Pesaro Colli al Metauro Eppur si muove Primi passi per il nuovo comune Maggrado l'opposizione di Montemaggiore Il comitato del no Chiede di incontrare Il commissario E dice Noi non ci arrendiamo Gli ormai ex assessori Salutano i cittadini E rivendicano la bontà Dell'aggregazione Poi da Fossombrone Un antipasto del Carnevale Per l'Epifania Domani la Befana arriverà Su un carro allegorico Di quelli appunto Che si usano Per il Carnevale Per il Carnevale Poi c'è questa notizia Che arriva invece da Urbino Paura Per il sindaco Di Cagli Alessandri Che è stato Colpito da infarto Un malore Per il primo cittadino Di Cagli Che poi è stato Trasferito Al San Salvatore Di Pesaro Ed è una notizia Che trovate Sia sul Carino Che sul Corriere In condizioni stabili E cosciente Anche se la prognosi Resta riservata Alberto Alessandri È stato colpito Martedì sera In palestra Mentre era con tre amici Un infarto Stando ai primi riscontri Che lo ha colto di sorpresa Durante l'attività sportiva Ed era impegnato In una partita di basket Lui che è un ex giocatore Appunto Di basket L'orgoglio di Gambini Siamo sull'ultima pagina Quella di Urbino Di Gambini e Guidi Centro storico Ce l'ha svolta Gli amministratori Rivendicano i risultati Risolte le situazioni vecchie Di anni Direi che possiamo Fermarci qui Con l'informazione Allora come sapete Oggi e domani Sono giornate Soprattutto Quella di oggi E quella di stanotte Giornate dal punto di vista Meteorologico Un po' difficili Come sempre Noi siamo Pronti a raccontarvi Quello che succede Nel nostro territorio Fatelo insieme a noi Fatelo attraverso Whatsapp O attraverso l'email Comunicate con noi Mandateci foto Video Segnalazioni Noi faremo il nostro lavoro Cercheremo di farlo al meglio Cercheremo di informare Tutta la comunità E quindi di renderci Se possibile La vita Un po' più facile Un po' più semplice Con una giusta E corretta informazione Grazie per averci seguito Ci vediamo stasera Alle 20.30 Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti